Noi di Bookblog siamo riusciti anche a beccare Bersani e gli faremo un paio di domande. Innanzitutto, quanto è importante per lei leggere? Mamma mia, è un tormento non poter leggere. Voi non avete idea quanti libri ho letto e quanti pochi riesco a leggere facendo il mestiere che faccio. Questo è un crucio, è uno dei cruci più grossi che ho. Con questo mi difendo, continuo a leggere, intendiamoci. Però, francamente, non smettete di leggere, non c'è altro. Noi accontentiamoci della comunicazione veloce. C'è bisogno di pensiero per qualsiasi attività, qualsiasi attività, anche la politica. C'è bisogno di pensiero e i libri ti danno pensiero, c'è poco da fare. Il suo libro preferito è perché? Direi Il maestro Margherita, lo conoscete? E anche il mio. E quindi il perché dillo tu. Perché? Perché il maestro Margherita parla di libertà, parla di coraggio. E in un certo senso ti infonde anche il coraggio di poter cambiare la realtà, volendo e combattendo. Combattendo si cambia. Trovo che noi non siamo posti a pilare. No, no. Ok, va bene. Siamo più volando. Ciao.